Prosecco, lo champagne italiano? Assolutamente no! Siamo in un mondo completamente differente, rispondiamo proprio a delle esigenze ma anche delle aspettative dell'appassionato di vino, del cliente, di chi sta assaggiando, completamente diverse rispetto al mondo delle bollicine francesi. Fatto sta che il Prosecco è sicuramente lo spumante più venduto al mondo, un successo che ha portato quindi la coltivazione e l'allevamento della glera dalle colline, dalle quote e dalle rive di Valdobbiadene e Ponegliano fino alla pianura, anche perché in 15 anni la richiesta nel mondo di Prosecco è aumentata di oltre il 150%, quindi ovviamente i produttori di vino in Veneto sono riusciti a rispondere prontamente a quella che era proprio l'esigenza, andando però a differenziare anche proprio il metodo di produzione rispetto a quello tradizionale. Tanto quando parliamo di Prosecco stiamo facendo riferimento a quel metodo un po' più industriale che si chiama metodo Charmat, quindi quel metodo inventato in realtà dal nostro Martinotti che prevede una rifermentazione tecnica piuttosto che una rifermentazione in bottiglia. Ricordiamoci però che alcuni produttori fanno il col fondo che effettivamente avviene con la rifermentazione in bottiglia, ma che non possiamo minimamente identificare come un metodo classico, un metodo Champenoise, quello proprio dello Champagne. Ma in cosa si differenzia quindi il Prosecco rispetto allo Champagne? Tanto proprio nel metodo stesso, la rifermentazione del Prosecco avviene in autoclave, abbiamo tutta una serie di passaggi per filtrare il vino sterile, abbiamo anche il controllo di pressione, quindi abbiamo proprio anche un residuo zuccherino che tendenzialmente è più elevato. Abbiamo però delle caratteristiche organolettiche che sono quelle forse le cose appunto, gli aspetti su cui ci dobbiamo concentrare maggiormente per capire le differenze tra i due. Se effettivamente uno Champagne arriva a costare anche 10, 15, 20 volte quello che può essere il valore del più grande Prosecco in assoluto, un motivo effettivamente ci sarà e c'è ed è facilmente anche intuibile. Tanto se parliamo di Prosecco appunto abbiamo una tecnica più industriale contro quella della Champagne, una tecnica più artigianale. Potremmo parlando del mondo della moda ipotizzare proprio quello che è il fast fashion, quindi quel tipo di produzione più rapida che risponde sia alle esigenze del mercato, in questo caso è proprio il Prosecco, contro quello che però è un haute couture, quindi anche quando andiamo a fare grandi volumi come alcune Maisons di Champagne l'artigianalità non viene mai dimenticata e la cura e l'attenzione al dettaglio è sempre altissima. Cura che si traduce generalmente appunto in due metodi differenti, un tempo di permanenza sui lieviti, che nel mondo della Champagne tende a essere sempre estremamente più elevato, più lungo, i vitigni, ovviamente abbiamo una differenza anche sui vitigni, nonostante il Pinot Noir abbia fatto la sua comparsa nel disciplinare del Prosecco Doc, non di OCG, quindi nel disciplinare di quella produzione più allargata per la versione Rosé che viene lanciata nel 2020. Quindi abbiamo effettivamente due vitigni differenti, Champagne la ragioniamo principalmente di Chardonnay, Pinot Noir e Monnier, di qua invece stiamo ragionando principalmente appunto di Glera per la produzione del Prosecco, che è un vitigno più semplice, più immediato. Andiamo poi a vedere appunto anche la consistenza della bollicina, quella del mondo Champagne è sicuramente più fine, più elegante, quella del Prosecco anche in virtù del metodo più industriale tende a essere meno elegante, ma non per questo non piacevole. La persistenza, la complessità, il Prosecco tende a essere meno persistente, tende a essere più immediato, più fresco, a giocare su profumi, ma anche su un retrogusto che ricorda spesso e volentieri la frutta lavata, la frutta fresca, tipo una mela, una pera e poi andiamo sul glicine, andiamo comunque su dei profumi più floreali. Nel mondo Champagne tutta la parte di pasticceria, tutta la parte di evoluzione, tutta la parte magari anche qualche produttore di frutta che va verso una frutta più matura, leggermente ossidata, apporta una grandissima complessità al naso, quindi abbiamo uno spettro più ampio e la persistenza palato, ovviamente rappresentata dai Champagne, è molto più lunga. Per questo è ovvio che se dovessimo confrontare soltanto l'aspetto qualitativo dovremmo dire beh beviamo Champagne, ma non è così perché il Prosecco risponde invece all'immediatezza, la piacevolezza, il non dover per forza leggere il vino ma poterlo semplicemente assaggiare e quindi anche questo residuo zuccherino tendenzialmente un po' più elevato dà questa morbidezza che piace tantissimo ai mercati soprattutto nord americani e qui c'è appunto il segreto proprio del successo. Però il mondo del Prosecco è estremamente complesso e articolato. Intanto abbiamo la DOC e la DOCG che può creare spesso e volentieri confusione. Il mondo rappresentato dalla DOCG è quello storico, è quello appunto di Conegliano e Valdobbiadene dove oltre ad avere tanta ricerca, tanto studio, abbiamo proprio la produzione quella storica. Siamo in montagna, siamo in collina, siamo più in quota, esiste il concetto di rive che sono di fatto dei cru. Si va a lavorare su singolo comune quando stiamo appunto parlando di rive, proprio per cercare, o singola frazione addirittura, di valorizzare al massimo quello che è il territorio, quello che è l'espressione territoriale del vitigno glera. Ma anche le rese qui sono più basse rispetto alla DOC. Se parliamo di Prosecco DOC, quindi la zona allargata che copre quasi tutta la regione, ad eccezione della provincia di Verona e di Rovigo, andiamo a ragionare di rese che sfiorano i 180 quintali per ettaro. Nel mondo champagne alcuni produttori arrivano ad avere rese che sono sui 35 quintali per ettaro, quindi stiamo parlando di un mondo completamente opposto. Mentre rimanendo all'interno del cerchio del Prosecco, se ragioniamo di Prosecco DOCG, quindi quella zona più classica, quella più storica per la produzione, da 180 scendiamo a 135 quintali per ettaro. Quindi una produzione che diventa comunque consistentemente più piccola, con rese più basse, qualità più alta. Si va a lavorare a mano, mentre nel mondo della DOC si può meccanizzare. Qui se si sta producendo un rive necessariamente si va a lavorare appunto a mano, proprio per cercare di portare maggior qualità, quando si parla di rive scende ulteriormente quella che è appunto la resa per ettaro. Andiamo addirittura a 130 quintali, quindi una differenza di 50 quintali per ettaro rispetto alla DOC allargata. Ma non è finita qua, abbiamo alcuni esempi incredibili di produttori che sono riusciti già nel 1933 a portare questo concetto. Quindi il concetto di CRU non è un concetto nuovo, è un concetto che esisteva già all'inizio del secolo scorso. Stiamo parlando della cantina Dami, quindi una cantina storica che ha potuto convincere da subito per la qualità che riusciva appunto a rendere. Il loro vigneto giardino è stato proprio uno dei primi CRU in assoluto prodotti nella zona classica, nella zona tradizionale del Prosecco ed ha convinto immediatamente quando è stata presentata proprio anche per ricerca. In più nasceva in un periodo in cui la qualità media del vino italiano era decisamente bassa e quindi ha avuto la possibilità di imporsi e di evidenziare quelle che potevano essere proprio le qualità. Nella zona classica però troviamo anche produttori meno diciamo consueti, meno legati a quello che è l'idea di Prosecco che abbiamo nel mondo, dei produttori che sono più legati proprio alla terra in senso stretto. Malibran, che è una piccolissima azienda con 7 ettari per esempio, con sottoriva, fa un lavoro analogo a quello delle rive proprio cercando di portare però con un metodo ancestrale in bottiglia una glera spumantizzata bloccando, e questo va considerato che nella produzione del Prosecco si può utilizzare anche questo tipo di metodologia, ovvero si va a imbottigliare il vino quando ancora non ha svolto tutta la fermentazione, tutta la prima fermentazione, lo imbottigliamo in inverno così che la fermentazione si blocca, in primavera riparte, quindi i lieviti mangiano i zuccheri all'interno della bottiglia producendo oltre alcol anche CO2, quindi rendendolo ovviamente più frizzante, andandolo quindi a creare proprio uno spumante. Un altro produttore che lavora così per esempio è la famiglia Follador con Casa Coste Piane, un altro vino sempre della zona tradizionale che è diventato molto molto importante. Ma nelle differenze abbiamo appunto tra la DOC e la DOCG, quindi è ovvio la DOCG sta esprimendo una qualità superiore a quella appunto espressa dalla DOC dove è il quotidiano, la risposta al mercato, uno dei driver fondamentali, ma anche qui si trovano ovviamente dei Prosecchi di buona qualità, è rappresentato dalla montagna, dalla collina di Cartizze, poco più di 100 ettari, siamo all'interno ovviamente della DOCG e questo è il primo Grand Cru riconosciuto di Prosecco. La collina di Cartizze tende ad esprimere quelle che sono rese ancora più basse perché si va sui 120 quintali per ettaro, quindi rispetto appunto alla DOC che sono 180 iniziamo avere una differenza veramente sostanziale. Si raccoglie uva soltanto a mano, il metodo ovviamente è quello Charmat, si tende ad avere un residuo zuccherino abbastanza elevato, qui la famiglia Bisol con la Cantina Ruggeri è riuscita negli anni a portare appunto il suo Cartizze con 30 grammi litro di zucchero sulle tavole di tantissimi italiani, ma non soltanto degli italiani. Questo diventa ovviamente con un residuo zuccherino così importante più un vino forse per accompagnare il fine pasto piuttosto che un vino da pasto. Però ecco, per capire che il Prosecco non è assolutamente paragonabile allo champagne, è un qualcosa di completamente differente. E anche se parliamo di Prosecco dobbiamo necessariamente dividere tra la DOC, quindi la risposta più contemporanea, più moderna alle esigenze del mercato, e la DOC dove appunto troviamo la zona classica, la prima, quella che ha avuto la volontà di andare a lavorare anche su una discreta qualità, partendo dalla vigna concentrandosi poi su ovviamente quello che è il lavoro svolto in cantina. E anche qui troviamo le rive che sono comunque queste zone più ripide dove la coltivazione della vite diventa praticamente eroica. Abbiamo pendenze, pensate, che sfiorano addirittura il 70%, quindi coltivare uva non è qualcosa di così banale, arrivando poi alla microzona rappresentata da Cartizze che per tanti anni è stato il faro guida del Prosecco nel mondo. Grazie a tutti.